Ciao ragazzi, oggi parliamo dell'Europa centro-orientale, in particolare dello stato della Polonia. La Polonia confina a nord-est con la Russia e con la Lituania. Per quanto riguarda la Russia, si tratta di un piccolo territorio che è staccato rispetto al resto della federazione russa. A est la Polonia confina con la Bielorussia e con l'Ucraina, mentre a sud confina con la Slovacchia e con la Repubblica Ceca. A ovest confina con la Germania e in questo punto un tratto del confine è segnato dal fiume Oder. A nord la Polonia è imbagnata dal Mar Baltico e presenta due golfi, il Golfo di Danzica e il Golfo di Pomerania, di cui poi parleremo. Il territorio della Polonia è attraversato da est a ovest da una fascia pianeggiante. A nord la costa che dà sul Mar Baltico è bassa e sabbiosa. Parte del territorio è poi occupato da colline moreniche che si sono formate grazie ai detriti portati dai ghiacciai. Se andiamo invece nella parte meridionale del paese, qui si trova la zona più montuosa, che comunque non è occupata da monti molto alti. Infatti i sudeti hanno un'altezza poco elevata e poi ci sono i monti carpazzi, carpazzi occidentali, di cui fanno parte gli alti che sono il gruppo montuoso più elevato. Per quanto riguarda i fiumi, la Polonia ha due fiumi principali. Uno è la Vistola, che attraversa lo stato da sud a nord per andare a sfociare nel Mar Baltico, precisamente nel Golfo di Danzica. Altro fiume molto importante è l'Oder, che come abbiamo detto segna il confine con la Germania e sfocia nella laguna di Stettino che è collegata al Golfo di Pomerania. Per quanto riguarda i laghi, questi sono concentrati nel nord del paese e sono generalmente laghi di origine glaciale. Il clima della Polonia è un clima continentale, è caratterizzato cioè da una forte escursione termica stagionale con estati calde ed inverni freddi. Il territorio della Polonia è inoltre caratterizzato da boschi che però sono stati danneggiati dalle piogge acide dovute al forte inquinamento. Per quanto riguarda la storia della Polonia, il paese, come sapete, ha una storia molto travagliata. In realtà ha entrato presto sulla scena della storia europea nel decimo secolo, quando il re dei Polani Miezko I nel 966 si è convertito al cristianesimo. La Polonia è stata poi un importante stato feudale, tra 300 e 400 il regno di Polonia era uno dei più potenti dell'Europa centro-orientale. In seguito però fu occupata e spartita più volte tra Austria, Prussia e Russia. Riottenne l'indipendenza soltanto nel 1918, cioè alla fine della prima guerra mondiale e poi con l'inizio della seconda guerra mondiale nel 1939 fu invasa dai tedeschi e dai sovietici. È a questo punto che la Polonia fu teatro di uno dei più bui capitoli della nostra storia, cioè della Shoah, che in ebraico significa annientamento e che fa per l'appunto riferimento all'uccisione di 6 milioni di ebrei da parte della Germania di Hitler durante la seconda guerra mondiale. In Polonia c'erano infatti moltissime comunità ebraiche locali che inizialmente furono chiuse in ghetti come il ghetto di Varzavia. Questi ghetti erano delle parti della città che erano chiuse da mura e lì gli ebrei erano obbligati a vivere. Poi si passò alla vera e propria soluzione finale con la costruzione di campi di concentramento come quello di Auschwitz, tristemente famoso. Alla fine della seconda guerra mondiale in Polonia nacque la Repubblica Popolare Polacca, che era però uno stato satellite dell'Unione Sovietica. Quindi la Polonia fu a lungo un paese comunista che dipendeva dall'URSS. Alla fine degli anni Ottanta però si sviluppò un movimento riformatore chiamato Solidarnosc e questo vinse le prime elezioni libere nel 1989. Per quanto riguarda la popolazione della Polonia, questa è costituita per oltre il 90% da polacchi e nel corso della sua storia ha subito delle forti ondate migratorie dirette specialmente verso la Francia e gli Stati Uniti, oltre al discorso che facevamo prima dello sterminio degli ebrei nei campi di concentramento nazisti. Il polacco è la lingua ufficiale, ci sono però delle minoranze linguistiche come il tedesco e l'ucraino. La religione principale è il cattolicesimo e per quanto riguarda la forma di governo la Polonia è oggi una repubblica parlamentare che fa parte dell'Unione Europea. Vediamo ora quali sono le città più importanti della Polonia? Innanzitutto sicuramente da citare la capitale, cioè Varsavia, che si trova sul corso del fiume Vistola ed è stata ricostruita dopo la seconda guerra mondiale. Abbiamo poi la città di Katowice, dovrebbe essere più o meno questa la pronuncia, che è il capoluogo della Slesia, una regione ricchissima dei giacimenti di carbone. Cracovia invece è un importantissimo centro industriale che si trova sulla Vistola, relativamente vicino a Katowice, in una conurbazione industriale. Abbiamo poi la città di Lodz, che è famosa per l'industria tessile. In realtà la pronuncia non è questa, ma quella polacca è piuttosto difficile. Infine c'è il principale porto del paese, che è Danzica, che si trova sul golfo omonimo, cioè sul golfo di Danzica. Per quanto riguarda l'economia polacca, dopo le prime elezioni libere del 1989, la Polonia ha dovuto adottare delle riforme economiche per privatizzare le aziende. Infatti prima vigeva un'economia di tipo comunista, visto che la Polonia era un satellite dell'Unione sovietica. Per quanto riguarda l'agricoltura, questa dispone di ampi territori coltivabili, però ancora si basa su piccole aziende contadine, dove si coltivano cereali, segale, avena, patate e barbabietole. Si allevano poi bovini, suini e cavalli di razza. Come dicevamo prima, parlando di Katowice, che è il capoluogo della Slesia, la Polonia è ricchissima di carbone, che quindi è uno dei combustibili più utilizzati per produrre energia elettrica. È però anche uno dei più inquinanti, infatti i boschi polacchi sono danneggiati fortemente dall'inquinamento, come abbiamo visto. Inoltre è importante anche l'estrazione di rame, di zolfo, di zinco e d'argento. Nel settore secondario sono attivi settori meccanico e metallurgico e sono in crescita altri settori come quello chimico, agroalimentare e quello tessile che abbiamo visto prosperare nella città di Loz. Per quanto riguarda invece il settore terziario, i servizi sono in fase di ammodernamento, in particolare per quanto riguarda il turismo, le telecomunicazioni e i servizi finanziari. Allo stesso modo le reti stradale e ferroviaria sono in fase di ampliamento. La lezione sulla Polonia è finita. Ciao ragazzi!